Abbiamo chi ci fa la sigla finale, signori, la sigla finale del CNP ce la fa, eh, chi canta la messa? Chi canta la messa? Chi canta la messa? Cominciamo subito così. Chi canta la messa? No, io non canto la messa, non cantiamo la messa. Chi è Pasquale? Pasquale sono io, piacere, Pasquale. E qua sta scritta Pasquale, canta la messa. Ma Pasquale canta la messa, è il cognomo, dallo scusa, pregattino, pregattino, scusate. Ma chiedo scusa, vabbè, lui chi è? Come mai l'ha portato con il suo? Lui mi spieghi qual è. È il suo figlio? Eh, signor Mondale, secondo voi di un figlio c'è stato come questo? Sì, è un onore avere un figlio come me, capito? È un onore fattea. No, no, è un onore fattea di un figlio come me. Non cominciamo a litigare. Allora, lui chi è? Allora, signor Mondale, ti presenti, ti presenti. Si presenti. Aetano Dio t'aiuto. E che cosa fai della vita? Che cosa fai? Che cosa fai? Io, io, mi fai il suggeritore. Ah, e cioè? Mi spiego, spiego io. Scusate, allora, dati che io non mi ricordo le parole, lui mi suggerisce le parole della canta. Ah, ho capito, e cioè? Eh, vi spiego, si è portato anche questo. Eh, che cos'è quello? Che cos'è? Quello, è il leggio. Eh, che cosa serve il leggio? Eh, ma siccome che neanche io mi ricordo bene le parole, E come parlo a fare? Allora, io leggo e suggerisco. Ah, io quando? Eh, Oxford lui, eh? Oxford Cambridge. Scusate, signor Candelabese, ma non potete fare tutto voi? Eh, facci tutti, è arrivato a mandare, e chi sono Pippo Baudi canti, lei mi suggerisce. E cosa fai cantando di bello? Vi cantiamo una canzone tratta dal repertorio classico Napoletano. Sceneggiata, grazie, 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 grazie. Facciamo le cose per bene, accompagnati dal maestro pregattivo, canta la messa e Dio ti aiuti, presentano. La messa canta? Sì, va pure zappatore, maestro. Felicissima sera, è l'unica cosa della canzone che mi ricordo, è quello che viene dopo che non mi ricordo, capito no? quando io non mi ricordo le cose io facciamo una cosa faccio così allora faccio così tu capisci che mi devi suggerire e suggerisci se ho mandato scusami si si prego prego faccio e faccio con te vai zappatone maestro felicissima sera felicissima sera felicissima sera felicissima sera bambolino eeeh ma che è ma bambolino flamengo ma sono flamengo ma me tu fa così ma che c'è il suggerimento devi suggerirlo si ho mandato scusami ma solo questo ci sta e purtroppo quello che passa è il convento quando faccio così devi suggerire a me perché non me la ricordo ma non me la ricordo si ho mandato scusami prego rifacciamo zappatone maestro felicissima sera felicissima sera felicissima sera a tutto che a tutto che a tutto che ti fai andato a tutto che ti fai andato a tutti sti signori guatate gliel'è non mi fa ci fai andato a tutti sti signori guatate ci fai andato 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 e le scusami a tutti sti signori guatate e le scusami lo hai fatto beppe anche se come diceva così! 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 come si fa? così! 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 così che! così che! al macchiatolio! al macchiatolio? scusate! non vedete come al macchiatolio? ma vi spiego chi dà che mangia i panini qua a Mulinalo? proprio al macchiatolio, proprio guardate che si è mangiato il panino da solo! da solo? Uno, due, il panino, non te lo puoi mangiare qua, ho capito che sentevo fame, ma ora la macchia tolo, questo, che c'è scritto? Cusì, all'era, cretino. All'era, bravo signor Mondale, signor Mondale, col dino signor Mondale, qua ce la facciamo. Maestro, musica, felicissima sera a tutti questi signori incruattati. E anche se come ti va così all'era, uomini chic e femmini, cercate, rasate, pittate, pittate. Come che? A me vittorina, ma la sai? A me vittorina, a me vittorina, c'è che allora ma che? Ma così, secca, rasate, pittate. Come che? Ma io non posso suggerire troppo, perché si sente. Non si sente. Si sente. Non si sente. Non si sente. Cusì, Mondale, se lui suggerisce da suggeritori, i suggeritori, quelli di Canale 5, il suggerimento si sente o non si sente? Si sente. Vabbè, a zappatore paese. Felicissima sera a tutti questi signori incruattati. E anche se come ti va così all'era, uomini chic e femmini, pittate. Questa è una festa? Gay. Qua gay? Qua gay? Che gay è gay? E' una festa che fa normale, come tutte le festine? Allora perché? Ma non vuoi manierla così? E' una festa? Ma tu sei così? Sì, Mondale, ma se quello non fa così? Qua sì, è gay, scusate. Mi devi suggerire. Ma si sente? Non si sente. Ti ho detto che sei suggerito. Vuoi vedere? Vuoi vedere che non si sente? Non si sente. Mi lo dico a tutti voi. Scusate un attimo. Se lui suggerisce da suggeritore esperto di Canale 5, ma quei suggeritori proprio che si mettono dietro, fatti a suggeritore, è vero che i suggerimenti si sentono o non si sentono? Certo che si sente. Ma fai un c***o, Mondale, zappatore paese. Felicissima sera a tutti questi signori gruattati. E anche se come ti va così all'era, uomini chic e femmini pittate. Che se ne vesti e balla, tutte le fracche e sciacche, su signori. Brava. E io che sono sceso a coppia o sciaraballe, senza cercare permesso, balli pure. Ma sta ricordato, meno male. Chi so? Chi so? E lo so, grazie. Chi so? Canta la missa? Lo so, grazie. Chi so? Chi so? Chi so? Canta la missa? Chi so? Chi so? No! 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 Non lo faccia sapere. Io? Chi so? Cicciolina. Cicciolina? Ma come sono cicciolina? No, no, al limite. Ma che sono cicciolina? Al limite, taccolino. No, perché? Chieco, dalle che io, non tre volte andavo a portare i c***o, non l'ho portato il c***o in costura, stavo mangiando il c***o. No, la cicciolina è il c***o. Non lo fai. Non lo stai a dire. Cicciolina è il c***o. Si ho mandato, che non si è abbottato la ciccola. Ma come fa? La stai a mangiare un po'? Ma nemmeno, non ci sono mandato più a l'altro. non si può fare la sigla finale e allora i nostri gentili aspettate ci aspettano fino alla settimana prossima e ci lasciamo così felicissima sera a tutti questi signori ungluvattati